Cristina Plevani fa la cassiera e replica a tono alle critiche su social Da bagnina a cassiera. . Svolta professionale per Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello che ebbe una storia d'amore con il compianto Pietro Tariconi. Cristina Plevani oggi, professione cassiera. Non più lezioni di nuoto e fitness, era istruttrice, ma un nuovo lavoro per Cristina Plevani che fa la cassiera part-time in un supermercato. . . . Cristina Plevani replica alle critiche sul social network. . . La Plevani è diretta come sempre, gruppo di ragazzi. . Io alla cassa. . Loro bisbigliano su di me. Li sento. . Non sono sorda, vi sto sentendo. . Tutto il giorno così. . Tutti i giorni così. La stesse domande. . Gli stessi commenti. Ed io sento tutto. . . E sempre dai social ribatte, chi stabilisce chi è uno sfigato e chi no? Noi? E magari facendo il paragone con la nostra vita o con quella che vorremmo vivere? Sempre detto, prima di giudicare gli altri prova a camminare nelle sue scarpe. . Ne leggo e ne sento tanti di opinioni, su di me e sugli altri. . Abbiamo sempre lindice puntato verso qualcuno. . Una cosa è certa, vivere non è semplice, crescere non è semplice, prendere decisioni non è semplice. . Quanti sbagli ho fatto e quanti ne farò. . Ma ho la libertà di farli. . Mi sento libera. . Libera di fare quello che voglio della mia vita. . Libera di cambiare se qualcosa non mi fa stare bene. libera di essere una bagnina, un'istruttrice di nuoto e di fitness, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e libera di essere altro quando me ne capiterà l'occasione. . Libera di mollare tutto se ne avrò voglia. . Libera di restare o di andare. . Libera di esprimere la mia opinione cercando di non ledere la sensibilità altrui. . Libera di essere me stessa nel bene e nel male. . Libera di fregarmene se non sono diventata quello che gli altri si aspettavano. . Libera di aver perso dei treni. . Libera di averne presi altri. . Libera di vivere la mia di vita. . Anche quando non mi piace e soprattutto quando mi piace. . . . .